Volley S3 White è il gioco che parte dalla battuta. Il Volley S3 White è il livello base che permette ai bambini di conoscere il gioco. Si possono proporre gare 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 con rotazione obbligatoria ogni volta che si acquisisce il diritto al servizio. Il campo prevede dimensioni di 4,5 x 4,5 metri con la rete posta a 160 cm. Il pallone ufficiale è il Mikasa SK V5 S3, ma è consentito anche l'uso di altri palloni omologati FIPAV. Il gioco Volley S3 White è il livello di partenza dove è sempre consentito bloccare la palla. Battuta La battuta consiste in un lancio dal basso a una o a due mani. Dà l'inizio al gioco e può essere effettuata da dentro o fuori il campo. Ricezione La ricezione dopo il blocco della palla consiste in un lancio al compagno dal basso verso l'alto e seguito a due mani. Alzata L'alzata dopo il blocco della palla consiste in un lancio al compagno dal basso verso l'alto e seguito a due mani. Attacco L'attacco dopo il blocco della palla consiste in un lancio verso il campo avversario e seguito a una o due mani. L'attacco 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 Uno contro uno Il volley S3 White può essere giocato uno contro uno su un campo di dimensioni ridotte della misura di 4,5 x 4,5 metri. Due contro due Si può giocare anche due contro due su un campo di dimensioni ridotte della misura di 4,5 x 4,5 metri, sia con due che con tre tocchi. Grazie per la visione! Tre contro tre Si può giocare anche tre contro tre su un campo di dimensioni ridotte della misura di 4,5 x 4,5 metri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!